Hanno fatto il punto della situazione sugli edifici sgomberati e sul rientro delle famiglie. Conferenza stampa questa mattina nella sala giunta di Palazzo Baronale, voluta dall'amministrazione Mennella, per rendere noti gli ultimi sviluppi dopo il crollo della palazzina al Civico 59 domenica 16 luglio tra Vicopizza e Corso Umberto I e la messa in sicurezza degli altri stabili sgomberati. Secondo le previsioni del Comune tra il 15 e il 20 agosto dovrebbero rientrare i nuclei familiari ai civici 58, 64 e 70. Più delicata la situazione al Civico 67 e ancora più complessa quella al Civico 59 di Vicopizza. Ai microfoni di TV City il sindaco Luigi Mennella e il professore Antonello Di Luca, consulente incaricato dall'amministrazione comunale. Sindaco Mennella si è appena conclusa questa conferenza stampa qui a Palazzo Baronale per fare il punto della situazione sull'emergenza, crolli a Torre del Greco e sulla situazione degli sfollati. Facciamo una sintesi. Abbiamo dato un mandato al professor De Luca che è alluminare, ma sostanzialmente in particolar modo dedicato alla sua cattedra che è quella lì di sismica, alle attività che ha fatto per le costruzioni, ma lui è anche stato ed è stato consulente purtroppo per diverse tragedie a livello nazionale, quindi è una persona di grandissimo livello. Ci siamo affidati a lui per cercare quanto prima di far rientrare le persone a casa e già stiamo lavorando abbastanza velocemente. Come avete sentito già pensiamo nei prossimi dieci giorni di fare in modo di far rientrare le persone e gli abitati di fronte al palazzo che è crollato. Siamo interagendo con il palazzo civico 67 che è quello lì che è stato offeso da parte crollata affinché si possa rimettere in sesto e per dare poi possibilità all'accesso a Vigo Pizza. Insomma stiamo lavorando, ci rendiamo anche conto delle difficoltà che hanno le persone perché chiaramente, come dicevo prima, anche in un albergo a 5 stelle chiaramente non equivale mai la propria casa, le proprie abitudini. Insomma noi come amministrazione stiamo lavorando affinché queste persone possono continuare a immaginarsi di vivere le loro case nel migliore dei modi e fino a quando questo non accade ne siamo qui a disposizione cercando di dare il massimo che possiamo dare. Dunque la priorità dell'amministrazione è favorire il rientro delle famiglie ma continua anche un monitoraggio sugli altri edifici del centro storico? Assolutamente sì, è quello che vogliamo fare, sicurezza, dare la priorità a queste persone, come dicevo, insomma assisterli quando più possibile sperando che insomma vada tutto nel migliore dei modi. Per il palazzo crollato in Vigo Pizza al civico 59 i tempi invece sono più lunghi. Quel palazzo è sottoposto a sequestro da parte della magistratura che deve apporare le cause, evidentemente non è vero che si è aperto un fascicolo, lo sapete tutto, sono sotto inchiesta credo i proprietari ovviamente e la magistratura sta indagando fino a quel momento chiaramente il consulente di parte della procura vorrà a disposizione questo fabbricato e quindi noi fino a quel momento non possiamo chiaramente che aspettare perché la magistratura deve fare i propri vintaggi insomma. Sono venuto qui per dare un aiuto al rientro delle persone nei fabbricati che sono stati sgomberati per vari motivi, poiché l'edilizia in quella zona del centro storico ha una sua vetustà, a volte le murature hanno una loro povertà, non manutenzione, qualche piccola manomissione è necessario andare a vedere quei fabbricati dove è stato previsto lo sgombero, quindi l'aiuto è un aiuto tecnico di andare a guardare, vedere cosa si debba fare, dove si possono aprire delle strade in sicurezza, lì dove ci sono ancora elementi di pericolo. Non sono stato nominato come consulente tecnico di parte per il crollo del 59, quindi io sul crollo del 59 non posso dire nulla, posso dire sugli effetti di questo crollo, sugli altri fabbricati e... Com'è la situazione per gli altri fabbricati? Per gli altri fabbricati, i tre fabbricati sul Corso Umberto, noi speriamo che domani dopo domani di avere un assenso positivo da parte mia sulla possibilità di rientro, possibilità che però è subordinata al rientro attraverso percorsi in sicurezza e questi percorsi in sicurezza sono relativamente facili da realizzare, anche questi sto avendo un'interlocuzione con delle imprese contattate e credo che queste messe in sicurezza possano durare 7-10 giorni a parte gli aspetti amministrativi. Quindi contiamo che per il 15-20 agosto, massimo fine agosto, rientrino tutti gli abitanti dei fabbricati, di questi tre fabbricati. Invece per il fabbricato al civico 67? Sul 67 la situazione è un po' diversa perché il 67 ha subito un'uffesa dal crollo, ha subito alcune parti di muro che sono crollate sul muro del 67 che si sviluppa su Vicopizza, c'è anche qualche muratura forata e ha subito la perdita dei tre archi di contrasto che contrastavano contro quell'ala che è crollata. Quindi è stata fatta un'ordinanza da parte del Comune ai proprietari perché bisogna contemperare le esigenze pubblico privato e questi proprietari devono o dire che il tutto è in sicurezza o fare qualcosa per metterlo in sicurezza. Questo ci consente di poter aprire un varco su Vicopizza perché attualmente il varco è complesso perché a sinistra abbiamo il 67 che ha subito queste offese, a destra abbiamo le aree sequestrate dalla procura per motivi di giustizia, davanti abbiamo alcune parti di muro che si vede semplicemente alzando gli occhi al cielo che sono pericolose, non pericolanti ma pericolose e quindi stiamo progettando anche una struttura di mesi in sicurezza ma dobbiamo avere qualche garanzia anche dal fabbricato 67.